ciao ragazze bentornate nel mio canale oggi andiamo a spacchettare questo pacchettino non tanto pacchettino ma un pacchettone di bbcraft perdonatemi ma acceso anche la luce artificiale lì perché qui ho un tempo di cacca è arrivato già l'inverno che desolazione quindi adesso giro la telecamera mi infilo una maglia a maniche lunghe perché sto a senti freddo e guardiamo insieme cosa mi è arrivato anche se qualcosina già ho sbirciato rieccomi allora come sempre il pacco è sigillato con chilometri e chilometri di pluriball ottimo è arrivato in tempi brevissimi la spedizione era sempre quella uguale l'altra volta la slt la special line quella veloce che arriva nel giro di 7 barra 15 giorni e quindi anche questa volta è stata velocissima la spedizione ho preso esattamente nove nove no no cinque articoli perdonatemi ma sto un po un po confusa un po di incoglionita e voglio anche aggiungere una cosina per quanto riguarda le spese di spedizione di bbcraft per chi supera i 25 dollari le spese di spedizione sono gratuite quindi ottimo per chi effettivamente vuole fare scorta su questo sito giù nell'info box vi linko tutti i materiali che ho preso io e adesso vi mostro cosa ho scelto dal sito il primo prodotto che vi mostro sono questi cartoncini argento e oro questo è appunto il codice del prodotto inizialmente pensavo di aver scelto la foglia oro o la foglia di argento però siccome in questo periodo ve l'ho detto sono un po più un po confusa non ero proprio lucidissima quando ho realizzato l'ordine e quindi mi sono ritrovata i cartoncini che sicuramente utilizzerò in qualche modo realizzando appunto che ne so dei bigliettini oppure delle scatoline perché no sono dei cartoncini molto resistenti sono esattamente 12 cartoncini come dicevo prima sia argento che oro ve li mostro da vicino questo è appunto quello argento tra l'altro mi si vedono anche i miei capelli sparati ecco ciao ciao a tutte ho i ricetti tutti sparati non ci fate caso e poi questo qui oro sempre molto lucido questo è il retro del cartoncino come dicevo prima sicuramente ci farò qualcosa con questi cartoncini qui poi ho preso questo è il codice sono dei segmenti di catena strass ve lo lascio qui il codicino all'interno c'è sempre la scatolina di plastica e questi sono appunto i segmenti sono golden plated placati oro 18 carati e sono con lo strassino nero colorazione nera questo è il retro sia sopra che sotto hanno la solina per poterli agganciare e realizzare qualsiasi cosa un bracciale perché no anche degli anellini utilizzarli sotto a degli orecchini e all'interno ne sono presenti quattro sono quattro segmenti scatoline sono comodissime vi rimostro di nuovo il codice ed eccolo qua poi ho preso questo è il codice ho preso delle che ogni filo sono presenti all'incirca 50 pezzi di perle in avventurina sono davvero molto belle e fredde davvero molto molto carine misura 8 mm poi ho preso questi due stampi in silicone per fare appunto la resina questo è il codice questo è un unico set e all'interno ci sono due stampi che trovo il tutto dalla busta è presente questo stampo qui davvero molto carino e anche abbastanza grande non so se aspettate provo ad alzare di più la videocamera magari notate di più le proporzioni ecco qua si è abbastanza grandicello e sono presente due forme l'altro stampo è questo qui con queste mega gocciolone cioè sono due gocce gigantesche e sono presente appunto sei gocce stampino è lucido questo è come ho fatto sul retro e ho di mente di realizzare qualcosina di interessante con questi stampini entrambi l'ultimo articolo ho scelto qualcosa di diverso che non ho mai non ho mai provato una nuova tecnica e sto parlando appunto del quilling ho scelto questo set del quilling questo è appunto il codice dell'articolo e ve lo illustro c'è la scatolina che davvero utilissima ok e questi ci sono tutti vari attrezzini per il quilling questa è la scheda di plastica con il quilling che ci aiuta appunto a realizzare queste bellissime forme ci sono diverse tipologie e grandezze poi c'è anche la ruota con gli spillini ottimo poi abbiamo quest'altro attrezzo che ci consente di realizzare le spiraline in queste dimensioni appunto aiutarci per la dimensione delle spiraline poi abbiamo il la bottiglietta con perla colla con il tubicino sottile poi ovviamente le stiscioline di carta ne sono presenti davvero tantissime nel kit e sono esattamente due tre quattro quattro e sono presenti di diametro queste sono un po più piccole rispetto vedete sono di dimensioni differenti per un totale di 260 striscioline sono presenti 26 colori come vedete di tutte e quattro le dimensioni questa è quella un po più larga rispetto all'ultima che vi ho mostrato che è davvero piccolissima quindi a voglia sperimentare con 260 striscioline poi c'è all'interno c'è presente la pinzetta che ovviamente vi aiuta a posizionare le varie spiraline e a creare il vostro design e in ultimo c'è lo strumento per arricciare le striscioline di carta questo è tutto il set non vedo l'ora di sperimentare con questa tecnica nuova per me inserisco di nuovo il tutto all'interno della scatolina se non mi perdo qualcosa e sicuramente il tutorial in collaborazione sarà uno con il quilling e l'altro sarà con la resina quindi spero di essere capace con il quilling è la mia primissima volta mi è sempre incuriosito il questi set per il quilling e adesso ho detto perché no buttiamoci in questa nuova avventura e già ho un'ideuzza come dicevo prima già un'idea e voglio realizzarla insieme a voi in un tutorial quindi prossimamente vedrete un tutorial per il quilling e un tutorial con la resina se siete curiosi di vedere cosa andrò a realizzare seguitemi prossimamente io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi video ciao ciao